Ciao bentornati sul canale. In questo video ho chiesto all'intelligenza artificiale un numero a caso. Su tanti erano i Pokémon che consceva. Scoperto il Pokémon e dopo aver cercato alcune su immagini da usare come reference, sono andato subito su Blender e ho iniziato a scolpirlo. Ho iniziato con il busto per poi passare alla testa, bocca e occhi. Dopodiché sono passato alla foglia che l'ombre usa come simpatico cappello. Subito dopo mi sono occupato delle braccia e in seguito degli artigli. A quel punto mancavano solo i piedi. Dopo aver creato i piedi gli ho messo le unghie e ho continuato la modellazione fino ad arrivare alla testa come a formargli una di un'altra. Le un'altra. Come? Il'altra. Ho poi inserito una texture creata precedentemente e regolato tutte le impostazioni. Creato un piccolo scenario aiutato da polibotani che a quel punto il nostro l'ombre era finito. Vi piace? A me no! Ma era uscito questo numero. Ah! A me no! A me no!